Stanco dalla solita routine? Stanco di cucinare sempre tu? Stanco di lavare i piatti? Sei sempre tu che pulisci i pavimenti? E sei stanco di piegarti tutte le tue magliette? Ti basta tutto questo, da oggi puoi trovare la convivenza! Eh sì, grazie a convivenza non sarai più tu a fare tutte le faccende di casa e come per magia pescerà a tutto lei. Ti basterà semplicemente dirle una volta al giorno? Tesoro, ti amo tanto! Il gioco è fatto! E allora, cosa aspetti? Vai a convivere! Attenzione, la convivenza può avere effetti collaterali per circa cinque giorni al mese, quali? Arrabbiature improvvise, scatti dira, malumori, ripensamenti, sì vuol dire no, no vuol dire sì, e malfunzionamenti quali oggi lavi tu, oggi vai tu a fare la spesa, oggi stiri tu, oggi cucini tu. In questo periodo si consiglia di soggiornare dai genitori.